ciao ragazzi come voi sapete cari appassionati che io non faccio tutorial veri e propri però ecco diciamo che visto che sono sempre prolisso parlo sempre tanto 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 e faccio vedere poco questo video lo suddivido in più video così diventa un po più leggero da da guardare sto facendo una pausa sigarette quindi vi son detto perché non condividere questa cosa con con chi mi segue comunque con chi capita sul mio canale sto creando un ciclone separatore ho iniziato con lo smontare completamente cos'è il motore un vecchio aspiratore è andato il motore era completamente bruciato era completamente in corto ho chiesto quanto costava veniva costare troppo mi costa meno farlo nuovo quindi ho scoperchiato tutta la tutto il motore tutta la parte superiore del bidone per conservare comunque questo che è il suo tappo naturale che poi dovrà ancora essere tagliato sotto perché questa parte qua va eliminata il suo tappo che come funzionava per l'aspirazione dovrebbe funzionare anche quando entra in sottovuoto ma siccome ho visto che hanno fatto sempre problemi usare i secchiali di plastica perché la depressione che si forma dentro li li fa cartocciare questo in teoria speriamo che la teoria vada anche in pratica non dovrebbe soffrire di quel problema poi ho preso un tubo di quello delle fogne questo è circa 22 cm si ce l'ho al metro questo è per esattezza di ah no scusate siamo quasi a 25 cm 25 cm per un'altezza di ho fatto 25 x 25 poi ho già costruito un anello che una volta incastrato dentro qua questo sarà quello che scusate così rende un po più facile perché è una mano sola come al solito questo mi servirà per ancorarlo qui metterò delle viti che mi forano sempre questo tappo in modo da ancorarlo qui viene completamente siliconato poi sotto avrà sopra questo qua il coperchio da dove uscirà il tubo dove viene collegata l'aspirazione anche questo andrà sigillato tutto bene 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 non sto a metterlo dentro per vedere perché è talmente preciso che incastrarlo non è facile quindi con una mano sola non vi farò vedere che comunque il cerchio che ci riesco quasi con una mano sola ok quindi questo andrà qui poi ci sarà la parte sottostante che devo ancora modellare perché questa dovrà essere tagliata qua qua in verticale e poi devo togliere lo spessore di circa un centimetro per tutta la sua circonferenza fino ai due segni dove questo verrà ancorato al tubo ci sarà una parte che verrà ancorata al tubo e rimane intera mentre la parte che invece è tolta di un centimetro serve per far cadere la polvere dentro al dentro al contenitore ovviamente il tubo poi dovrà fargli all'altezza una volta che l'avrò inserito dentro io vorrò cercherò di farlo abbastanza basso comunque un buco per far sì che da qui arrivi l'aspirazione poi ho già messo in morsa e collocato il tubo all'interno questo è un tubo sempre di pari diametro siamo del 5 quello usato una tazza del 4 e mezzo 5 tutto siliconato dove questo poi andrà sagomato come il cerchio di questo qua per fare l'innesto di fianco e fare uscire il tubo dove viene collegato il tubo con il quale si aspira i pavimenti si aspirano i truccioli ora sto facendo il tappo perché questo una volta che sarà infilato dentro sotto dovrà essere attappato non deve prendere aria dovrà uscire solo dal foro che avrà qua di fianco il tappo lo so già creando adesso in fase costruzione tappo e per costruire il tappo ho usato il pezzo che mi è rimasto la del foro però era un filino grande e lo sto sagomando a mo di tappo proprio con un sistema abbastanza semplice con il buco che c'era già per fare della tazza che ho usato per intenderci questa anche se questo non è la misura il tappo è fatto così no quindi il buco ci ho messo dentro una vite bella grossa che mordesse è piuttosto lunga in modo da poterla ancorare dal trapano poi con una lima un pezzo di legno mi tengo il pezzo in squadra così mi cammina dritto e man mano l'ho freso presandolo in maniera dovrebbe in teoria dovrebbe venire quasi perfetto lo so che con legno quasi perfetto non non è proprio la parola esatta però insomma dovrebbe venire piuttosto preciso dopodiché questo è il metodo che mi sono studiato per fare tutti i cerchi tranne quello forato all'interno in poche parole vedete che c'è è un po piccolo nella punta del trapano ho tagliato un pezzo quadrato smussandoli via tutti gli angoli ho fatto prima il segno col compasso e ho smussato via tutti gli angoli dopo di che ho posizionato la parte esterna del pezzo del quadrato che mi era rimasto sagomato contro la lama l'ho posizionato e con con una punta di trapano ho forato all'esatto centro dove c'era il segno del compasso ed ho infilato questo che trapassava sia il pezzo quadrato che questo qua questo è stato mossettato e tenendo alla bassa la lama si abbassa la lama completamente almeno fino a che non tocca più qua si posiziona dentro il pezzo e si comincia un giro alla volta di manovella tracca la volta e gli si fa fare un giro al quadrato un altro giro e gli si fa fare il giro ta 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 fino a che la lama non fuoriesce e mi taglia completamente il cerchio e devo dire che sono usciti piuttosto bene non mi sono fatto nessun jig perché comunque morsettando un pezzo di legno sacrificale non c'è bisogno di farsi un jig per quei due cerchi che mi servivano quei tre cerchi e niente quindi vi volevo rendere partecipi di questo ciclone separatore farvi vedere più o meno le prime fasi di lavorazione ovviamente invece questo cerchio qua questo cerchio qua prima l'ho tirato fuori sempre con quel metodo sopra la troncatrice sopra il banco sega poi invece per fare la parte interna ho usato questo e dentro c'è un seghetto alternativo rovesciato lo so non è molto molto sicuro come metodo quindi io lo sconsiglio sempre se non si è se non si sa quello che si fa ho un traforo della compa ma devo dire che mi ha molto molto deluso non non fa quello che devo non deve e poi vabbè volendo anche seghetto alternativo si poteva usare quello però io preferivo utilizzare avere in mano il pezzo più che seghetto alternativo mi sento un po più preciso nel taglio infatti è uscito piuttosto piuttosto preciso perché poi tutto verrà siliconato e sigillato quindi più preciso è meno silicone ci va e soprattutto più più sicurezza di ermeticità si avrà buono questo per adesso è quanto perché comunque il mio sistema di aspirazione con l'aspirapolvere eccetera scusate la zona di nuovo buia però è quello che volevo farvi vedere il disastro e nonostante che c'è l'aspiratore collegato è solo che quando si riempie un po questo metabo come vi ho detto prende tanta aria nei fori se vedete un altro video la recensione sul metabo scoprite che ha tante tanti buchi d'aria dove dove può essere migliorata l'aspirazione e questo mi capita appena nel serbatoio appena aspira polvere è un po pieno ma non pienissimo basta che non aspiri più al cento per cento e comincia a spararmi polvere dappertutto e siccome mi scoccia avere un disastro del genere che sembra il cantiere dei giorgianesi allora ho deciso finalmente di farmi sto ciclone separatore sperando che il mio funzioni quindi ci vediamo appena l'ho finito alla prossima ciao appassionati se non riesco a fare altri video prima di natale anche perché c'è comunque tantissimo lavoro io auguro a tutti veramente un buon natale di tutto cuore lo passiate in salute e con gente piacevole tanti auguri ragazzi e buon anno